Sono 240 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le aziende iscritte nel registro delle imprese di Ravenna. Il settore più sofferente è quello del commercio, meno 138 unità, seguito dal settore dell'agricoltura che perde 132 imprese, delle costruzioni, meno 65 unità, dell'industria, meno 45 unità e del trasporto e magazzinaggio, meno 26. Le attività commerciali che hanno subito le maggiori perdite sono la vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento, con meno 15 esercizi, e le aziende di manutenzione e riparazione di autoveicoli, meno 14. I servizi alla persona sono gli unici che registrano un incremento. Crescono di 68 unità le attività dei servizi alla persona, di 45 unità quelle dei servizi all'impresa, di 17 le imprese turistiche. In crescita, le imprese con il titolare o con la maggioranza dei soci straniera. A Ravenna si tratta di 4502 imprese straniere, 89 in più rispetto allo scorso anno. A livello nazionale, i settori di attività nei quali la quota di imprenditoria straniera è più rilevante sono quelli delle costruzioni, del commercio e del turismo. Le imprese straniere Ravennati appartengono prevalentemente ai settori delle costruzioni, dove, con 1700 unità, rappresentano il 37,8% del totale.